Musica Presentato a Palazzo Lascaris, l'inno del Piemonte, all'Asia, cultura e tradizioni, patrimonio da tutelare. Sicurezza sul lavoro si punta sulla formazione, il Consiglio regionale ha approvato la relazione dell'indagine conoscitiva sul tema. Il Piemonte chiede di recuperare i tribunali soppressi. Nuova edizione di Consiglio News ben trovati, il Piemonte ha il suo inno, il drappò ad Euvive, che nasce dai versi del poeta Camillo Brero e dalle note di Fulvio Cr. Presentato a Palazzo Lascaris, il drappò ad Euvive, il brano scelto come inno del Piemonte musicato dal maestro Fulvio Cr, il cui testo è tratto da due poesie dello scrittore e poeta Camillo Brero. L'individuazione dell'inno è arrivata in seguito all'indicazione del centro Gianni Oberto, quindi l'approvazione in aula di uno specifico emendamento alla legge di riordino 2024, e infine la deliberazione finale da parte dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Già cinque anni fa si è partito con l'idea di proporre un inno, un inno del Piemonte, della regione Piemonte, un inno istituzionale, si è partito con tante idee, decine di proposte che si sono discusse negli ultimi tre anni nel centro Gianni Oberto, un testo condiviso da tutto il centro, da tantissime centinaia di associazioni che ho audito e sentito in questi anni. L'inno è stato eseguito nel Belvedere di Palazzo Lascaris con il quintetto strumentale Ars Nova Orchestra che ha accompagnato la soprano Ilaria Quilico e il tenore Dario Prola. Ho pensato primariamente a due cose, all'antica nobiltà del Piemonte e della sua bandiera e anche un po' alla sua geografia, tant'è che la parte iniziale, quella trionfante, oltre a invitare l'animo a rispetto della bandiera, ricorda anche le montagne. La seconda parte, quella più cantabile, invece ricorda l'altro aspetto del paesaggio piemontese, le pianure, le risaie e le colline ricche di vino e di ogni altra delizia della natura. Il Consiglio regionale ha deciso che il brano sia eseguito in occasione delle ricorrenze istituzionali regionali, istituite con legge regionale, nonché durante le cerimonie, le commemorazioni, le celebrazioni e gli altri eventi ufficiali alla presenza del Presidente del Consiglio regionale o del Presidente della Regione o di loro delegati e della bandiera o del gonfalone della Regione Piemonte. L'inno del Piemonte non ha avuto alcun costo per la Regione poiché l'utilizzo del testo e del brano è stato concesso gratuitamente. Sicurezza sul lavoro approvata, la relazione dell'indagine conoscitiva. Nelle piccole e medie aziende sono maggiori i rischi di incidenti sul lavoro. E' uno dei dati che emergono dall'indagine conoscitiva approvata all'unanimità dall'Aula del Consiglio regionale durante l'ultima seduta. Come ha sottolineato Sara Zambaia, lega nell'introduzione, l'indagine ha l'obiettivo di elaborare una programmazione delle politiche regionali per migliorare la prevenzione e diffondere la cultura della sicurezza sui posti di lavoro. E' stata evidenziata la necessità di istituire una commissione regionale di coordinamento per la formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Inoltre si intende avviare con lo Spresal un atto di indirizzo per azioni mutuate e preventive. Per giungere ad un testo condiviso è stato fondamentale il lavoro svolto da Walter Marin, Lega per la maggioranza, e da Monica Canalis, Partito Democratico, e Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre, Unione Popolare per i gruppi di opposizione. Non parliamo di incidenti e basta, parliamo di morti, parliamo di vite che drammaticamente vengono spezzate, quindi famiglie che vengono letteralmente distrutte. La politica deve essere vigile, l'azione legislativa di chi ha competenze in materia deve essere veramente molto intensa. Essere vicini alle imprese, soprattutto le imprese più piccole, che magari fanno un po' più di fatica in autonomia a fare formazione ai loro lavoratori. Noi che siamo le istituzioni dobbiamo aiutare, accompagnare queste imprese in maniera tale che davvero nessun lavoratore, neanche straniero, resti indietro. Approvato a maggioranza dall'Aula un disegno di legge al Parlamento che chiede al Ministero della Giustizia, attraverso apposite convenzioni, di istituire nuovamente alcuni tribunali e procure soppressi dal Governo nel 2012 per operare una riorganizzazione complessiva degli uffici giudiziari. Il provvedimento aveva riguardato i tribunali di Pinerolo, Saluzzo, Mondovia, Alba, Aquiterme, Tortona e Casale Monferrato. La proposta prevede inoltre che a certe condizioni possano essere istituiti nuovi tribunali ordinari nelle città in cui avevano sede alcune delle 220 sezioni distaccate soppresse dal medesimo provvedimento. Più tutela per gli operai forestali della Regione. Con 26 voti favorevoli e 13 non partecipanti è stata approvata dall'Assemblea la legge norme in materia di lavori in amministrazione diretta di sistemazione idraulico forestale, assetto idrogeologico e vivaistica forestale, per dare stabilità agli operai forestali anche per quanto riguarda i finanziamenti e i mezzi in dotazione. Nella relazione Walter Marin-Lega ha spiegato che la Regione provvede direttamente alla gestione del proprio patrimonio silvopastorale, anche con i dipendenti forestali che svolgono molteplici compiti per la sua valorizzazione. Gli operai forestali sono un patrimonio di questa Regione che va giusto valorizzato e conservato. Per l'attuazione della legge nel bilancio da poco approvato sono stati stanziati 15 milioni di euro annui. Investire sulle persone, investire sulle tecnologie, investire sui macchinari per riuscire veramente a mettere in pratica i principi che noi oggi andiamo ad approvare. Potranno partecipare alle prossime elezioni regionali senza obbligo di raccolta firme tutte le forze politico e movimenti corrispondenti a gruppi parlamentari presenti in almeno una delle due Camere. Con una modifica approvata dall'Aula infatti si precisa la fattispecie per evitare dei contenziosi che potrebbero compromettere il procedimento elettorale, come si legge nella relazione della PDL approvata che è stata presentata dal Presidente Stefano Allasia. Questa modifica, ha spiegato, si è resa necessaria perché nei giorni scorsi è cambiata la normativa nazionale ed era indispensabile adeguarvisi. Con la stessa PDL, e sempre per adeguarsi a un recentissimo decreto legislativo nazionale, è stata modificata la normativa per le cause di ineleggibilità previste per i dipendenti regionali ai fini dell'elezione a consigliere regionale. Dovranno prendere aspettativa esclusivamente i dipendenti della regione che svolgano, al momento della candidatura a rispettivo consiglio, funzioni e attività amministrative. Il Parco dei Cinque Laghi di Ivrea è legge. Il Consiglio regionale del Piemonte ha dato via libera al disegno di legge che istituisce il Parco naturale dei Cinque Laghi di Ivrea. Il nuovo parco ricade integralmente all'interno dell'Anfiteatro Morenico e coinvolge laghi Nero, Pistono, Campagna, San Michele e Sirio nei comuni di Ivrea, Borgo Franco, Cascinette, Montalto Dora e Chiaverano. Ho lavorato intensamente per raggiungere questo obiettivo, ha commentato il relatore di maggioranza Andrea Cane, Lega, collaborando con tutti gli attori coinvolti e affrontando le preoccupazioni legate alla sostenibilità e al turismo. Ora vanno garantite risorse adeguate e promosse iniziative che bilancino la conservazione ambientale con lo sviluppo economico locale. L'istituzione a parco naturale aumenterà le garanzie di tutela degli aspetti naturalistico-ambientali e consentirà un utilizzo sostenibile di un'area importante all'interno del sistema della rete ecologica. Finalmente, grazie alla nostra insistenza, è arrivata ad approvazione questa proposta, ha spiegato il relatore di opposizione Giorgio Bertola, Europa Verde, un passo importante per il territorio che ha voluto fortemente l'istituzione del parco e che meritava una risposta dal Consiglio regionale. Via Libera ha un provvedimento mirato a rilanciare e sostenere il comparto del wedding. Aiutare la ripartenza di tutte le attività e dell'indotto che ruota attorno al comparto del wedding valorizzando il territorio piemontese anche come destinazione turistica di eccellenza e questo è il contenuto della proposta di legge a firma Sara Di Sabato, Movimento 5 Stelle, approvata dall'Aula. La legge vuole valorizzare e promuovere il Piemonte in questo settore in grande crescita viste le location disponibili, le dimore storiche e la presenza di grandi professionisti, artigiani e commercianti in grado di soddisfare ogni esigenza e coprire tutta la complessa e articolata filiera. Un sistema variegato che mette insieme produttori di eccellenza del Made in Italy e aziende commerciali della ristorazione e di servizio, ha spiegato la consigliera Di Sabato. In totale, esclusa la ristorazione, si tratta di 2.000 aziende che danno lavoro a 15.000 addetti e muovono un giro d'affari complessivo di alcuni milioni di euro in Piemonte. Tra gli emendamenti discussi e approvati c'è quello di Francesca Frediani, Movimento 4 Ottobre Unione Popolare, per vietare l'utilizzo di colombe vive nelle cerimonie. Per questa edizione è tutto, prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte. Arrivederci! Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS Grazie.